Se volete organizzare un matrimonio raffinato, un matrimonio elegante, quello che io definisco un matrimonio con l'accento, ci sono tre cadute di stile che dovete assolutamente evitare. La prima caduta di stile è l'incoerenza, incoerenza a tanti livelli, incoerenza per esempio a livello di allestimenti, ma quello è già più logico, cioè l'allestimento della cerimonia deve avere un senso con l'allestimento del ricevimento, ci deve essere uno stile che leghi i due allestimenti, ma anche l'abbigliamento deve essere coerente con gli ambienti che si sono scelti per il proprio matrimonio. Ci vuole una visione di insieme che coinvolga tutti gli elementi, per esempio anche le bomboniere o i segnaposto, che senso ha regalare un vasetto di miele se vi sposate in una villa lussuosissima? Avrà senso se vi sposate in un luogo rustico, in un agriturismo? Allora sì, ci vuole coerenza. Lo stesso vale per esempio per il menù, perché anche in questo caso se sei in una location super lussuosa ci vorrà un certo tipo di menù, non dico gourmet, ma comunque elegante, sicuramente non dei piatti da trattoria e viceversa. E anche la musica è un elemento che deve essere coerente con tutto il resto, quindi pensate al vostro matrimonio in maniera complessiva, dategli coerenza. Seconda caduta di stile, gli eccessi sotto ogni punto di vista, gli eccessi per esempio di cibo non vanno mai bene, di sicuro non sono raffinati. Quando avanza tanto cibo non c'è eleganza, non va bene, ma anche nel piatto stesso, un piattone pieno di pasta non è raffinato, quindi eccessi nel cibo no, ma anche eccessi nell'allestimento, questa ostentazione di fiori, come per dire io posso, me lo posso permettere, ostentare la propria ricchezza con degli allestimenti faraonici che magari nascondono anche gli sposi, non è elegante, non è raffinato, ci vuole misura. Neanche nei tempi vanno bene gli eccessi, quelle giornate stancanti, sfinenti che durano dalla mattina fino alla mattina dopo non sono raffinate, i matrimoni più raffinati sono quelli che durano meno tempo, il tempo di un cocktail non c'è bisogno di star lì tantissime ore, non è elegante. E ovviamente non possiamo trascurare il look, gli eccessi anche nel look non vanno bene, quindi la sposa per esempio con tanti gioielli, orecchini, collana, magari anche la tiara, il velo, troppo. Less is more, questo ricordatevelo sempre, quindi togliete per andare all'essenza, per essere più raffinate, agli eccessi dite no. Prima di dirvi la terza caduta di stile mi presento, sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento, quindi se anche voi volete un matrimonio con l'accento iscrivetevi subito al canale youtube e andate anche sul sito matrimoni con l'accento punto it e iscrivetevi alla mia newsletter, così ci saranno tante novità dedicate solo a voi. E arriviamo alla terza caduta di stile che è la volgarità, ovviamente la volgarità non va mai bene, quindi sposi evitate di organizzare attività volgari, per esempio io intendo volgari la fazzolettata, il togliere la giarrettiera con i denti dalla coscia della sposa o ancora il taglio della cravata, ma anche evitate di bere troppo, evitate di ubriacarvi, ma che bisogno c'è? Perdere il controllo durante il giorno del proprio matrimonio sicuramente non è una cosa raffinata, fateci attenzione e anche chiaramente la volgarità nell'abbigliamento, quindi la sposa prosperosa eviti di mettere in mostra tutte le sue grazie, la scollatura profonda va bene per quelle spose che sono un po' filiforme, ma anche le trasparenze, non è raffinata una sposa tutta trasparente, perché? L'eleganza è un'altra cosa, ma anche spacchi profondi con le cosce che escono, no, è un matrimonio, se le volete raffinato non siate volgari, la stessa cosa vale ovviamente per le invitate che dovrebbero seguire le stesse regole per l'abbigliamento e a tutti gli invitati dico, evitate di organizzare giochi volgari con risvolti sessuali, perché ricordatevi che al matrimonio sono presenti i genitori, i nonni, gli zii degli sposi ed è una cosa orribile metterli in imbarazzo con domande troppo personali ed evitate di divertirvi, cosa che ho visto più di una volta purtroppo, di divertirvi facendo ubriacare gli sposi, perché quello di sicuro raffinato non è. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!